Prego, se vuole illustrarlo un attimo. Grazie Presidente. Allora, in realtà il testo dell'interrogazione si costruisce attorno a una fotografia che abbiamo mandato e che abbiamo ricevuto sotto forma di segnalazione da alcuni cittadini, i quali per un certo periodo hanno visto più volte transitare dei camion riportanti sulla fiancata bonifiche, la parola proprio bonifiche, entrare attraverso un cancello nell'area della zona del villaggio Falc, dove c'è appunto un cancello d'entrata per il parco della media valle dell'Ambro. Dal momento che non risultavano, soprattutto agli abitanti del quartiere, non risultava che ci fossero delle bonifiche in corso in quell'area, si sono domandati e mi hanno chiesto di conseguenza di domandare per quale ragione i camion transitassero in quest'area e che cosa di fatto facciano, qual è l'area del parco che state bonificando ovviamente laddove ci sia una bonifica in atto, quali sono le caratteristiche degli inquinanti presenti nel terreno che stanno bonificando e dove viene poi portato il terreno raccolto. Grazie. Risponde l'assessora Giannizzi, prego. Grazie Presidente, come l'abbiamo riportato nell'interrogazione scritta, abbiamo interrogato ovviamente la società Sesto Mobiliare, cioè adesso Miano Sesto perché è proprietaria ovviamente dell'accesso delle aree che sono interessate dal transito dei mezzi che l'interrogazione ci ha riportato e abbiamo riportato fedelmente quello che loro ci hanno detto, per cui la leggo insomma per tutti in maniera tale che tutti abbiano la risposta. La Sesto Mobiliare ha ereditato una servitù di passaggio con accesso dal sito identificato nell'interrogazione della precedente proprietà. riguarda il passaggio di mezzi per il prevalimento e la relativa manutenzione del percolato prodotto dal Parco Cologno Sud e gestito in Alità Terza. Le autoboti segnalate pertanto percorrono il tragitto indicato in allegato valichando l'accesso in esame per trasferire il percolato verso discariche autorizzate. La parola ancora alla consigliere, prego. No, non ho niente altro da aggiungere, grazie. 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 Facciamo in tempo a fare un'altra interrogazione presentata dal consigliere Nossa relativa al rifascimento della segnaletica orizzontale in Viare Casiraghi. Ce l'ha presente? Prego. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti quanti. Sì, ce l'ho presente, nel senso che pur essendo passati cinque mesi mi è rimasta impressa. Anche perché fortunatamente dopo poco che è stata presentata, tra qualche dei problemi evidenziati nelle interrogazioni sono stati sistemati o recuperati. Quindi benissimo, come ho detto in precedenza, in altri consigli le interrogazioni servono per questo e quindi va benissimo. Comunque era il discorso che il Viare Casiraghi era stato butterato e bucato a modi gruviera a Svizzero e a più riprese e tutti i segnali orizzontali, tantissimi segnali orizzontali erano scomparsi quando era stato rifatto o il manto stradale o risistemato il manto stradale. Il problema è che mancavano mezze strisce pedonali alla fine della via, della segnaletica vicina all'incroci e quindi sicuramente la pericolosità era lampante. Il problema è cercare di prevenire queste interrogazioni, quindi quando qualcuno sistemi che sistemi da vocabolario e non sì e poi sistemi. Quindi cercare di capire come fare anche per controllare tutto qui. Comunque il concetto dell'interrogazione era semplicemente questo. Grazie. Disponde l'assessore Piano, prego. Non ci sono la 7. Sì, ringrazio il consigliere Nossa per l'interrogazione e anche per le osservazioni che ha fatto in sede diciamo di commento che mi trovano d'accordo. Vi sono tuttavia nella zona, soprattutto nel tratto di Viale Fulvio Testi, ancora alcuni interventi di dettaglio che riguardano la segnaletica orizzontale che dovranno essere completati e che saranno realizzati nell'ambito della programmazione dei prossimi interventi appena avremo la disponibilità delle risorse di bilancio per poterli programmare. Per il resto, come dicevo, concordo sul fatto che i due terzi dei problemi segnalati siano stati risolti successivamente all'asfattatura. La parola al consigliere per se è soddisfatto della risposta. No, sono soddisfatto sia della risposta che del lavoro svolto. Vuol dire che a breve ne presenterò una anche per via Timavo, visto che se poi il risultato è sistemare i problemi benvengano le cose. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Visto che siamo già in orario, come già comunicato la scorsa settimana, procediamo con la presentazione del nuovo servizio di pubblicazione online degli ordini del giorno del Consiglio Comunale e relativi allegati riservati ai consiglieri. La parola al segretario per una breve introduzione. Prego. Questa parte chiaramente non sarà oggetto di trascrizione nel verbale perché spero sia anche molto operativa. il servizio è un servizio che all'interno del pacchetto del nostro applicativo di gestione degli atti, in particolar modo della seduta degli organi collegiali, ed è un servizio di messa a disposizione online della documentazione, a disposizione dei consiglieri comunali, della documentazione che interessa le sedute consigliari, che dovrebbe consentire a questo punto l'accesso alla stessa documentazione anche da remoto, anche dall'altra parte del mondo, nel momento in cui utilizzate le vostre credenziali d'accesso. Tecnicamente avrete la consegna delle credenziali via PEC nei prossimi giorni, in modo che possiate poi utilizzarle. L'obiettivo è quello che la prima seduta a consigliare sarà quella nella quale avrete già un link tramite la convocazione via PEC a questo spazio virtuale dove tutti i consiglieri avranno a disposizione l'intera documentazione di consiglio comunale. Io lascerei subito la parola a Zampieri. Buonasera a tutti. Come diceva il segretario, presentiamo molto velocemente questo spazio dove tutti voi potrete avere a disposizione il materiale per i consigli comunali futuri. ma anche in parte per quelli che sono già stati...